È una vergogna, io l'ho detto chiaramente al signor Claude, che si deve vergognare la Commissione, che si ingerisce e chiede il rispetto delle norme europee a chi sta cercando di formare il governo italiano chiedendo sudditanza alle regole europee, quando loro per primi su una questione come l'EMA, che riguarda un grande Paese, non rispettano queste regole. Si devono solo vergognare. Viva l'Italia!